Salve bibite frizzanti in fase di sgasatura e benvenute in questo nuovo video. Oggi, come da tradizione del canale, siamo qui per i buoni propositi del 2024. Come sono andati gli ultimi 365 giorni? A me è onestamente una merda, ma spero che voi le cose siano andate meglio. Come per lo scorso anno, ci troviamo in salotto, dato che è la stanza centrale della mia dimora. E siccome i buoni propositi vanno a racchiudere tutte quelle che sono le sfere della vita del Malta, mi sembrava il luogo più ideale per realizzare questo contenuto. Mi scuso però per la pessima illuminazione, ma è il massimo che sono riuscito a fare. Direi che senza perderci in chiacchiere potete correre in cucina a prendere dei puccoi o a una bibita fresca, per cui gustavi meglio questo ultimo video del vostro Malta, perché questi sono i 10 buoni propositi per il 2024. Ma prima di farciò, come sempre, sigla! Prima di cominciare però vi invito a fare un rapido check dei social che potete trovare in descrizione, a partire dalla pagina Instagram fino al gruppo Telegram e infine arrivando al canale Twitch, canale su cui faccio almeno 3 live a settimana, 2 alle 21.15, mentre l'ultima la domenica mattina alle 11. Mi raccomando, trovate tutto qua sotto, venite a supportare il Malta ovunque egli andrà. Bando alle ciance, cominciamo! Il primo proposito che ahimè è lo stesso dello scorso anno è quello di laurearmi. Ahimè avrei dovuto farlo nel 2023, ma ho avuto diversi problemi, sia a livello personale sia scolastico. Infatti ho avuto un esame che non riuscivo a passare e che ha avuto un grosso impatto per quanto riguardava il mio morale, buttandomi a terra più e più volte. Finalmente però sono riuscito a passarlo e ora la strada è tutta in discesa. Nei primi mesi del 2024 il pezzo di carta tanto ambito arriverà tra le mie mani, speriamo a meno di disastri. Collegandomi al discorso di prima vorrei avere anche una maggiore fiducia in quelle che sono le mie capacità, credere maggiormente in me stesso. Purtroppo è una cosa che non mi tange, è una cosa che a fatica riesco ad avere e mi butto sempre per terra le prime difficoltà. Nonostante ciò sono anche abbastanza un perfezionista, quindi è una cosa abbastanza in contraddizione, perché se voglio fare una cosa la faccio bene, ma se ci sono delle difficoltà vado in panico o mi deprimo. Sto lavorando però su me stesso, in questo anno ho fatto davvero passi da gigante, sono molto contento di miei risultati, ma c'è sempre spazio per migliorare in qualsiasi ambito. Di conseguenza voglio avere una grande fiducia in me stesso, perché so che ho grandi potenzialità che posso esprimere in qualsiasi contesto. Ultimo proposito legato alla sfera personale è quello di essere ancora meno pigro. Quest'anno ho fatto davvero tanti passi da gigante per quanto riguarda questo aspetto, ho lavorato molto di più rispetto al passato, ma sono sicuro che qui, come per il punto prima, ci sia ancora tanto da lavorare e tanto da migliorare. In ogni caso mi sento davvero soddisfatto del risultato che ho ottenuto. Fidatevi che passare anche da 0 a 3 è tanto per il sottoscritto. Arrivando in manga, la cosa che maggiormente voglio fare è recuperare tutto Toriyama, uno dei miei autori preferiti, nonché il mangaka con cui io sono cresciuto. Come ben saprete, per me Dragon Ball rappresenta un manga importantissimo che ha fatto nascere in me la passione per il fumetto orientale ed è conservato in un angolo speciale del mio cuorecino. Ecco perché nei prossimi mesi mi piacerebbe recuperare tutta quella che è la sua bibliografia, a partire da Yako fino ai volumetti unici, arrivando poi per le cose anche un pochino più introvabili. Vedremo se riuscirò a farlo. E qua mi viene un pochino da ridere, perché so di aver detto questa cosa anche lo scorso anno e puntualmente non l'ho fatta. Bravo Malta. Iniziare Osamu Tezuka. Diciamo che ci ho provato comunque, perché io a volte andavo in fumetteria con la convinzione di prenderne un volume, però arrivavo davanti agli scaffali di quest'autore e rimanevo così imbambolato a fissarli per poi girarmi e traslare su altro. Non so per quale assoluto motivo io abbia un blocco mentale nei confronti di questo mangaka, però spero di superarlo quest'anno e iniziare finalmente almeno Black Jack oppure I tre Adolf, che sono le due storie che più mi ispirano. Ultimo proposito legato alla lettura e qui mi viene anche un pochino da ridere, è quello di finire Rocky Joe. Ho presi i primi tre volumi lo scorso anno, li lessi, però poi misi in ghiaccio la serie, la stoppai fino a data da destinarsi. Però mi sento pronto, ora voglio recuperarlo facendo la gioia di tante persone che mi hanno detto finiscilo, recuperalo e gustalo perché è un capolavoro. Vedremo se avrete ragione. Arrivando al canale, una delle prime cose che voglio fare è quella di portarvi nuovi episodi di Ve Lo Ricordate, essenzialmente perché sono una serie di video che mi diverto tantissimo a fare e che mi danno parecchia soddisfazione, facendovi e facendomi riscoprire alcune perle che avevo dimenticato nei cassetti della mia memoria. Vi ho portato quest'anno l'episodio su Powerstone e quello su High School of the Dead, ma non temete, ho tante altre opere qui in testa che meriterebbero un video in questa rubrica. E arriveranno, arriveranno. Qui lo dico e qui lo nego, Top 10 entro i primi quattro mesi del 2024. Ve l'avevo promesso e arriverà, assolutamente. Potrei averla già incominciata a scrivere. Punto numero 9. Ascoltare maggiormente i consigli della mia community, soprattutto per quanto riguarda le letture. Se mi conoscerete bene, saprete quanto questa cosa da ammettere sia durissima per il sottoscritto, essendo testardo ed orgoglioso. Ma se negli ultimi due anni sono riuscito comunque a creare un gruppetto di persone che sì mi seguono, ma con il quale ho anche stretto un buon rapporto di amicizia, è anche perché mi reputano forse una brava persona o un bravo creator. Sul gruppo Telegram ci sono tutti questi meme del primo o poi. Vi invito tra l'altro ad entrare nel gruppo che trovate in descrizione per parlare con tantissime persone simpatiche. Ma spero che nel prossimo anno possa mettere da parte un pochino questa testardaggine di fondo che mi caratterizza e ascoltarvi maggiormente per prendere dei manga che magari non prenderei manco per sbaglio, ma che poi potrebbero diventare tra i miei preferiti. Il decimo proposito è quello di organizzare ancora una volta i Maltas Awards, ma ancora più grandi. Qualcuno in questo momento si starà chiedendo cosa sono i Maltas Awards? Sono i premi alla community di fine anno. Qualche giorno fa sul mio canale Twitch, vi ricordo che trovate il link in descrizione, è andata in onda la prima edizione con tanti ospiti, tanti premi, ma soprattutto tante risate. Mi sono divertito un mondo, voi vi siete divertiti un mondo perché me l'avete scritto, avete dato tanto affetto per questa diretta e ne sono tanto contento. Quindi per l'anno prossimo voglio ringraziarvi ancora maggiormente, anzitutto istituendo nuovissimi premi, ma soprattutto portando tantissimi ospiti per scassarci insieme dalle risate. Veramente, grazie, è stata una delle live più belle che abbia mai fatto e mi sono divertito un mondo. Dicembre 2024 è ancora lontano, ma andrò ad organizzare dei premi ancora più succosi. E queste erano tutte le cose che il sottoscritto vuole fare nel 2024. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ma soprattutto ditemi voi quali sono i propositi per l'anno nuovo. Colgo l'occasione per augurarvi un felice 2024 sperando che possa darvi tantissime soddisfazioni. Ci tengo ancora a ringraziare di cuore la mia community per tutto il supporto che mi ha dato, sia qui su YouTube, su Twitch e in tanti altri social. Siete davvero, e non lo dico per fare leccaculo il motore trainante che mi spinge ancora a distanza di 5 anni a realizzare contenuti. Vi do un bacione. Detto questo, se ancora non l'avete fatto andate in descrizione per andarmi a seguire anche su altre piattaforme. Mettete un bel mi piace se il video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici se vi va, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina. Noi ci possiamo vedere l'anno prossimo. Ah, simpaticissima gag Federico, ciao!